Era solo in casa quando ha ricevuto la chiamata di un sericente maresciallo che le ha comunicato che sua nipote era stato vittima di un grave incidente ed aveva bisogno subito di soldi incontanti. In assenza di denaro sarebbero andati bene anche gioielli. Vittima della truffa, la signora Olga Arettina, di 85 anni. All'anziana, sempre il finto carabiniere, ha poi detto che avrebbe mandato qualcuno a ritirare i preziosi. L'85enne, così preoccupata, ha raccolto tutti i suoi preziosi e poco dopo un uomo ha realmente bussato alla sua porta facendosi consegnare l'oro. Ma non solo, mentre era in casa il truffatore, approfittando della distrazione della donna, si è intrufolato in un'altra stanza rubando 1.400 euro da un armadio. I due poi sono scappati in auto, ma arrivati a Cassino, in provincia di Frosinone, sono stati fermati dalla polizia stradale, che li ha subito identificati come autori di truffe ai danni di anziani. È così scattata la perquisizione. Nell'abitacolo è stata ritrovata la cifra rubata alla signora Arettina e i monili in oro, tra questi anche una fede con inciso il nome Olga, appartenente al marito defunto e la data delle nozze. Da qui gli agenti sono riusciti a risalire la vittima. La squadra mobile della questura di Arezzo è arrivata subito a casa dell'anziana, trovandola sotto shock e ancora preoccupata per il nipote, quando però si è resa conto dell'accaduto a sport o denuncia. I due truffatori sono finiti in manette, mentre Denaro e Gioielli sono stati restituiti in questura all'anziana vittima.